Stiamo arrivando qua a Materra oggi, 11 luglio 2019, guarda questo è il panorama prima di arrivare al famoso posto turistico di Materra. Stiamo percorrendo la strada statale numero 7 che ci porta direttamente a Materra. Questo è il nostro appartamento, questo è l'entrante. Ate saluta, corri per qua. Questa è la prima camera. Ger saluta. Questa camera è tutta per il mio fratello. C'è anche il divano, il letto per suo figlio di Giulio e Lesia. Corriamo. Qui c'è la cucina, tutto arredato, sempre con la vista di Materra. Siamo a Palm Springs. Entrate, ora vi mostro. Guarda, chiudiamo. Oddio fa freddo. Ma ti ho detto che possiamo uscire anche adesso. Venite con me. Sono qui. Se ne ho detto due stanze. Questa all'inizio era per i miei gintori, però non potevamo... Quindi questa è la nostra camera, purtroppo. Qui c'è il bagno. Dove faremo tante foto sotto. Insomma... C'è la vasca, il mio prefe. E questa doveva essere la nostra camera. Venite. Prendi il chandelier. E qui finisce il nostro tour della casa. Questo è il nostro outfit. Ciao! 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 Grazie a tutti. 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 No, non è vero! No, ma perché il video è automatico! Mi lontano! Vai! A presto! Grazie a tutti.